E' in inglese allora, buonasera a tutti per preferenza volete che parli in italiano con errori grammaticali o in inglese? Mostrili in mano per l'italiano Oh, Dio mio. In inglese? Nessuno? Oh, inglese! Ok, sono un po' nervoso di parlare l'italiano. Allora, è possibile che vado a camminare entro le lingue, per voi e per me. È un gran piacere di venire qui, è la mia prima volta a Sarsana, grazie agli disordinatori dell'invitazione. Oggi è un gran dia per me perché questa è la prima volta che ho visto il mio libro in italiano, oggi, questa domenica. Allora, grazie. Sono tutti qui i primi visitatori all'ospitale neonatale del mio libro. Allora, grazie, grazie a voi. Io vado a parlare sulla Via della Seta. Allora, grazie a tutti, grazie. Non? Così? Non? Ah, non? Ok, è working on the computer, but not here. Funziona qui? Così? Eccolo, ok, grazie. Sono un viaggio molto adesso. Tutti i giorni, quando leggo i giornali, gli titoli così. Le Silk Roads, le Via della Seta sono ovunque, everywhere. China agreeing new Silk Roads, China's Silk Road initiative, more China, the new Silk Road. It's everywhere we see this Silk Road. Good luck, I think Britain needs all the help it can get at the moment. Maybe the Silk Road will save us with Brexit, who knows. Everywhere in the world, we see the Silk Roads, le Via della Seta. Per io, come storico, è strano vedere qualcosa di esotico, qualcosa di storia, rappresentato dell'oggi e del futuro. Eccola, in Dubai, hai visto questo, Islamic Finance, Way Station on a new Silk Road. Tutto il mondo parla della nuova Via della Seta. Così, Silk Road. Abbiamo le domande, che cos'è? È un progetto cinese di empire building, di costruire un nuovo imperio. non lo so io. What's driving? How should the West respond? Che cos'è? Il mondo sta cambiando adesso. Questo è il mio pub a Oxford, Silk Road, il birra. È vero, è vero. Questo è il profumo di Hermes. Poivre Samarkand, l'ispezia di Samarkand, come present for your loved ones. Pepper of Samarkand. Ha passato molto tempo in Asia Centrale e non so se il profumo del mercato è necessario qualcosa. Questo è le scarpe, designato per Kobe Bryant, del basketball. Si chiama Silk Road's Trainers, di Nike. Questo, you won't know what this is, this is the Silk Road website. È la possibilità di buy farmacia, carri armati, missili. The Silk Road's. È una cosa importante. Ovunque vediamo adesso le Via della Seta. Digitale, scarpe, profumo, Cina. Questo è il nuovo annunzio del BP. Una caravan del Camello, o da Camelli. Reciamente, questo due settimane fa. Io vedo le Via della Seta everywhere, everywhere. Qui in Italia, ma this is important, la squadra di Inter ha un proprietario, grazie, cinese. Neanche Inter, neanche Milan. Questo, il mondo sta cambiando. Buffon, che non piace l'investimento cinese. Queste, le barche ferretti, proprietoria cinese, cerute, 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 moda, Miss Sixty, proprietoria cinese, fiorucci, gli italiani, i prodotti italiani con proprietoria cinesi. È qualcosa che è veramente importante per per noi, per notificare. To note, to understand. Here in Italy, wealthy Russians, non solo solo gli cinesi, gli russi. Eccola. Italy's direct investment in Russia's economy. La futura d'Italia dipende delle Via della Seta. Non solo gli proprietari, ma per gli mercati, gli commerci italiani, per costruire il suo proprio futuro. Allora, tutti gli genti che qui in, 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 who are working in Italy, their, their future depends on the Silk Road. Not only China, but Russia. And also, with the gas and energy and so on, in Iran, which has a big connection with Italy, but also in Iran. Also, these new countries. We don't know anything about these countries at all in the world. And I can prove this to you as a little game. And if you don't want to play, it's fine, because I'll do it in English. So this is not to make you feel bad, but can anybody, just put your hand up, if you shout, you lose, okay? Put your hand up. Can anybody in this tent tell me the name of one Chinese film star from mainland China? Facciamo un piccolo gioco. Non per farvi sentire male, non dirò niente, non umilierò nessuno, però dite, alzate la voce. The hand or the voice? No, hand, la mano. Alzate la mano se conoscete un attore cinese. Che non Jackie Chan. Che non sia Jackie Chan. Okay. Okay. Due, tre. Non più. Not many people. Pop star arabo, iraniano, russo. No. Cinese, non più. Pop star. Artisto, iraniano, pakistano, india. Okay. The point, not many. There are one or two of you, very clever. In England, I would buy you a beer afterwards to say, well done. But unfortunately, we're in Italy, so it's maybe a glass of wine. We know, okay, these questions about che cose noi pensiamo del mondo di oggi sono importanti perché 40% della popolazione del mondo, 70%, live sul via della Seda. Entra la Cina Pacifico e Turchia, più o meno. Billions. Un popolazione di bilioni di genti. Per me, per i miei bambini, abbiamo quattro bambini, per loro comprendere il mondo, vuol dire comprendere il mindset, la storia, le lingue, le referenze culturali di altri. E come ho mostrato giusto adesso, we are not interested, non abbiamo nessuno interessante sopra quattro cinque genti del mondo exteriore all'Europa. This is something which I think is very worrying because the second round of my quiz. Mostra la mano si possa nominare un solo imperatore cinese. Un solo. Nessuno, good, bad, doesn't matter. Okay, uno, due, tre, quattro, cinque persone. Okay, not many. Un scrittore arabo, dell'arabo classico, molto rimano. Okay. Not many. My point, my point is to say not only, non comprendiamo il mondo di oggi e non comprendiamo il mondo di ieri. E come storico questo è qualcosa non solo importante, significo, certo, ma critica. Okay. Allora, yes, this is Italia è la nuova via della seta. Eccola. It's everywhere, the new Silk Roads. Quando pensiamo del via della seta, always I get asked, perché via, non via della seta? Perché il termine è qualcosa di astratto, il nome designato per un geografico tedesco, Ferdinand Richthofen, lui ha detto, ha provato da explain, da trovare un nome per tutte le condizioni e entra in Asia. E lui ha detto questa parola, Seidenstrasen, in tedesco, che vuol dire via, plural. La plural è molto importante perché quando noi pensiamo sulla via, via della seta, abbiamo questo, come un'autostrada che comincia a Schiam e fine, non lo so, a Costantinopoli, a Venezia, non lo so, ma non c'è una strada, non c'è una connessione con comincia e con fine. Le vie vuol dire che le connessioni sono locali, le connessioni sono locali, neanche, non solo, come vuoi guardare la mappa dell'este all'oeste, dall'ovest all'este, dal nord al sud, dal sud al nord. Quindi è una connessione, come dice una rete di spida? Una rete di spida. Grazie. Ok. E quando pensiamo del via della seta, pensiamo del geografico complicato, le montagne, i deserti, così, le città, questo Samarkand, Samarkand in Uzbekistan. Nessuno ha visto Samarkand in Uzbekistan? Ok. Benissimo, bravo. Anche io. Oh, scusa. Questo è in Herat in Afghanistan dell'ovest. Bukhara o Bukhara, in Uzbekistan anche, Shiva in Uzbekistan e questo in Isfahan in Iran. E questo io sul cammello. Come Indiana Jones. Grazie. Ma io so bene che le vie della seta sono di connessione esotica ma non importante. Io lo so perché alla scuola, all'università, nessuno mi ha detto niente delle vie della seta. Qualcuno ha visitato l'Uzbekistan, l'Asia centrale. Non è così come visitare la Spezia, o via Reggio, o Ibiza. Ma quando pensiamo alla via della seta, questi caravani e i testili, questa la seta, ovviamente, ma per me alla scuola l'istoria vuol dire l'istoria dell'Europa. Tutti qui, mostro la mano perché è domenica, filosofico tedesco, tutti. Artista spagnola, scrittore francese, tutti, possiamo. Ma in Europa la concezione dell'istoria è spagliata. Spagliata è una vera strada. Spagliata è non strada. Scusi, ok. È spagliata perché questa è veramente l'istoria dell'Europa, di queste parti dell'Ovest. scrittore polonese? Polacco. Polacco, scusa. Polacco? Lei è polacco? Polacco? Artista di Ungaria? Ungherese. Ok. Ok, hai detto gli errori grammaticali, ok. Ma, artista ungherese? Nessuno? Bravissimi. Bravissimi, ok. Compositore greco? Oh, ok. Ok. Ok, well done. Ok. My point, my point is that, well done, I mean it. It's fantastic to know these things. But our idea of Europe is about Western Europe. It's about France, it's about Germany, it's about Britain, it's about Italy. We could add Greece, but Greece, la Grecia, più o meno, morte della civilazione con, non lo so, Alessandro il Grande, più o meno. Dopo questo punto è la storia dell'imperio romano, dell'imperio francese, dell'imperio spagnolo, dell'imperio britannico. E dimenticiamo, we forget other parts of the world. C'è una parola, a saying in English, the winner's right history, gli vincitori scritti l'istoria, più o meno. E questo è una bella esplorazione dell'istoria globale, to this day. Alla scuola io ho l'istoria, vuol dire, gli romani, qui arrivando all'Inglaterra, avanti il Brexit. Certo, Pisa, l'istoria del frangelico, eccola, voi conosce tutti questi, Venezia, Firenze, Machiavelli, questo io giocando a cricket in San Pietro, al plaza. In Italia tutti conosci Enrico Otto, sì? Ottavo. Come? Ottavo. Ottavo, grazie. Bellissimo con re, più o meno. Terribile con marito. E l'istoria del 20th century. Ventesimo. Ventesimo secolo, grazie. Franz Ferdinand Sarajevo, la prima guerra mondiale, le soffragetti, l'equalità tra gli uomini e le donne. Evidentemente Hitler e Stalin, Martin Luther King, l'equalità ancora una volta, e JFK. Tutti i bambini, they all learn the same things in school, in university, that I did, that my parents did. This is history. In questa storia, there's no place for the Silk Roads. It's not important, it's not relevant. This is history, Roma, Limerici, Firenze, Venezia, Pisa, Genova, the rise of Europe, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. That is history. Quando ero un bambino, avevano in mia camera una mappa, e al scuola, I heard about Alessandro il Grande, per la prima volta. And I couldn't understand, non ha puo comprendere perché Alessandro il Grande, morto a 32 anni, conquistatore, conquistatore del mondo, più o meno. He had no interest in Italia, no interest in Germania, in Francia, in Hispania. Per lui, per gli greci, what mattered, le cose importanti, la sofisticazione, la religione, la ricchezza, tutto importante era in Asia. The battle of Troy, 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 in Asia. When you read the Greek histories, l'historie greco, e tutta la rivalità con i Persi. Quoi i vostri cugini a Roma, i fondatori, Eneas, Veneto dell'Asia, del Troia. Everything connects back to Asia. Alexander the Great, no interest in Europe. This is what mattered. And this is because this is where civilization began. The Garden of Eden. I'm going to do a bit of English for a little bit, just to regroup. The Garden of Eden, here in the middle, more or less. This is where the first cities, le prime città in Historia, e le costruito qui. Le prime leggi in Historia, scritti qui. Tutto qui, per gli greci, neanche due mili anni fa. At the moment people talk about, sto parlando di globalizzazione, qualcosa di nuovo. Ma la globalizzazione era un, with fact, era fatto, fatto, due mili anni, due mili anni, più di due mili anni fa. Allora, qui abbiamo di immagine, questi vasi, fatto in Persia, trovato in Sri Lanka. Queste ceramiche cinese, trovato nel golfo persico, arabo, come volete. Queste ceramiche fabbricate in Africa del nord, trovato non solo in Britannia, non solo in Escossia, ma in nord dell'Escossia, in the outer Hebrides. C'è un sistema di globalizzazione, 2000 years old. Questo qui, it's difficult to say it in Britain, più o meno un single currency. Come si dice? Moneta unica. Moneta unica. Unità. Perché, unitare. Unità. Unica, scusi. Perché il commercio entra a Roma, l'imperio romano e l'India era sì grande, nel tempo dell'imperatore Augusto, che i generali, i rei, in the Indus Valley, in Valle Indus Valley, they made coins that looked, they felt, they weighed, they were worth, li stesso come le monete romano, 2000 anni fa. Ok? Queste sono le vie della seta fatte nell'anno 1. L'imperatore Augusto domanda le descrizioni di città dell'Asia e all'istesso tempo, più o meno, gli imperatori cinesi domandano ai diplomatici, agli scrittori, di descrivere tutte le città qui, nel centro del mondo. Questa connessione, queste locali, questa localizzazione, sono le più importanti nella storia globale di ieri, come oggi. L'imperio romano, solo con voi, con ospiti in Italia, allora non vuol dire qualcosa di stupido, ma per gli imperatori romani, a certain point, he understood che Roma, l'istessa Roma, era in, it was in the wrong place in the Mediterranean. For Roma, for the Roman Empire, the richest provinces, the richest areas, were North Africa and the Nile. L'imperatore Augusto ha letto che ha trovato Roma made in brick. Mattoni. Mattoni, yeah. E' la verità, perché Augusto Ottaviano, lui ha conquisto questo Nile Delta, con la ricchezza dell'Egipto. Ma la rivalità di Roma non era, come si dice questo film, gladiatore con Russell Crowe, buonissimo con film, ma sempre li persi qui. In l'anno 330, l'imperatore Constantino ha fondato Nuova Roma, adesso si chiama Istanbul o Constantinople, qui, perché Roma era troppo lontano delle vie dell'Esseta, della ricchezza, della sofisticazione, della mondo intellettuale, della mondo where everything happened. So a new city was built, New Rome, eccola, the cathedral of Justinian, of Hagia Sophia built by Justinian in the sixth century, Justiniano, imparatore. Allora, il mappa d'Europa, questi parti, questi all'ovest, avanti, entra nel fine dell'impero romano, until, non lo so, 1400? Fino al 400. Fino al 400? Fino al 400. Yeah. We call this period, gli secoli bui, dark ages. C'è qualcosa in parti, ci sono, there are some things that are spectacular, come Frangelico, about 1300, ma avanti, avanti, avanti 1400, l'Europa dell'Ouest era una, di concessioni locale dell'imperio romano spagliato, spagliato, e questi locali, these places, were not important, really, until very recently. Sì, ok, this is what the world looks like, before 1500, avanti che le scoperte dell'America e così, il centro del mondo, evidentemente, qui, le leggi, come ha detto, le città, le religioni, tutte le nostre religioni globali vengono da qui per un motivo o per l'altro, il giudaismo, il cristianesimo, noi crediamo che il cristianesimo sia europeo, a causa della pappa, della chiesa romana, cattolica, c'è un senatore in Texas dieci anni fa, era una discussione nel senato a Texas, deve apprendere i bambini, i ragazzi alle scuole, non solo inglesi ma spagnoli, does that make sense? I bambini in scuola devono imparare sia l'inglese che lo spagnolo, secondo questo senatore del Texas. E lui ha detto, diventando sempre più arrabbiato, ha detto, se la lingua inglese era proprio per Gesù Cristo, era proprio per tutti quelli che abitavano in Texas. Se la lingua inglese andava bene per Gesù Cristo, allora doveva andare bene anche per tutti i texani. E' vero, lo giuro, è vero. All of our religions, Buddhism, che è nascato qui in nord dell'India, makes it, it also pushes here, gives ideas. You've seen the Buddhas from Bamiyan in Afghanistan, destruitto per il Taliban, ma il Buddhism anche viene qua, con la cristianità, la cristianità spreads all'est più forte, più rapido che nel Mediterraneo. Si espande verso l'est molto più rapidamente rispetto al Mediterraneo. C'è di vescovi in Persia, in Iran, in Samarkand, più o meno qui, e a Kashgar, avanti che un vescovo è in Britannia, in Inglaterra. Prima. Prima, sì. Prima. And Christianity, Judaism, Buddhism, Zoroastrianism, and eventually Islam, nato qui a Mecca e Medina, ma nel centro del mondo islamico, in questo locale, Damascus, Mosul, Aleppo, eventualmente Baghdad. In questo regione, in questo cuore del mondo, è il punto d'incontro di tutte le lingue, le lingue indo-europee, le lingue semitiche, le lingue alteiche. Ok, 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 è giusto, scusi, ok, arrivederci, ritorno, ok, ok, qui, cuore del mondo, così, allora, le lingue indo-europee, light here. La rivoluzione italiana, ok. Ok, ok, I'll tell you what, I will, from now, I will speak in English. Oh, come on, I was doing quite a good job in Italian, right? Ok. I will speak in English, and Sonia, who is both a brilliant translator and incredibly clever, I will try not to have every sentence, because all of you understand, if there's something that you don't understand, put your hand, and I mean it, and then we'll translate that section. So I don't want anybody to miss anything. I have four children, like I said, so I sometimes speak too quickly, because they interrupt me a lot, but I will try to slow down, but just wave your hand, and so it can be perfect. If there's something you don't understand, wave and I'll ask Sonia to translate. Se c'è qualcosa che non capite, potete alzare la mano e io farò la traduzione. ok, 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 seconda opzione, ok, io vado a parlare in italiano. ok, 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 dispiace, sono io il professore, allora io vado a decidere, I'm going to decide. ok, 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 questo è una dimostrazione che la democrazia non funziona. ok, ok, è impossibile che tutti sono contenti, allora, I'm going to do the best I can, and please, I'm so happy you're all here, I'll try and do it, but whoever is angry that I'm speaking in English, ci sono gli italiani che non parlano in inglese, allora, I'll do the best I can. Faccio del mio meglio. Benedetta said to me I have to finish on time, in English, ok, 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 by the way, if you keep, if we keep having this discussion you're going to miss the best bits. ok, ok, anyway, grazie. le lingui, le languages, this is where all our major global languages meet, Indo-European languages, Semitic languages, Sino-Tibetan languages, is anybody a professor of linguistics? C'è qualche professore di linguistica? In questo è il punto in cui si incontrano tutte le lingue più importanti, le lingue di origine indo-europea, le lingue semitiche, le lingue altaiche, c'è qualche professore di linguistica in sala, per caso? Ok, lucky. And we know that this region is important because of the Garden of Eden, but also we describe ourselves that we come from this region. We describe Italian as an Indo-European language. I describe myself when I'm in America as a Caucasian man from these mountains here. Non solo siamo consapevoli del fatto che è un luogo importante, è una regione importante, ma noi stessi ci descriviamo e siamo consapevoli che le nostre radici provengono da lì. Quando io vado negli Stati Uniti io mi descrivo come appartenente alla razza caucasica. Ok, so this is how important this region is. And we forget in this dark ages between Rome falling and Europe suddenly becoming the home of light, of art, of great cathedrals, of great literature, the other parts of the world blossomed. E tendiamo a dimenticare che durante gli anni bui, quando prima appunto che l'Europa avesse la sua grande rinascita, quando erano in corso gli anni bui invece questa era la parte del mondo che fioriva. So, 500 years ago, or 600 years ago, instead of a festival in Sarzana, the festival maybe took place, would have taken place here in Balkh. In where? Balkh, in Afghanistan. A thousand years ago, the cleverest people in the world, the festival in the Mente, didn't come to Italy. They went to Samarkand, they went to Bukhara, they went to Herat, they went to Kabul. Quindi, 500 o 600 anni fa, l'equivalente del festival della mente non avrebbe avuto luogo a Sarzana, ma a Balkh, per esempio, o mille anni fa si sarebbe tenuto a Samarkand, o al Bukhara, o a Herat. Because scholarship and intellectual and cultural life are all drawn by money. And in this case, after the death of Muhammad, the richest provinces of the Roman Empire in North Africa were joined together with the richest provinces of Persia to make the first superpower in world history in about the year 650, maybe 700. E qui, dopo la morte di Mahometto, le ricche province dell'Impero Romano si sono unite alla regione ricca della Persia per andare a formare la prima superpotenza mondiale, e qui siamo intorno all'anno 650. And as you would expect from a world that is rich, it was a world that was also tolerant. It attracted scholars, writers, scientists, from all over the world. And it's no surprise that from these regions, we get things like our number system. We get algorithms, algebra, the words alcohol. These give you a clue of the kind of debts that we owe. But from our point of view in history, it's the dark ages, so no one studies this. And, as it is obvious, in places, there are also people, in this case, tolleranti, because these are the places that attraggono tutti gli scienziati, gli studiosi, gli intellettuali che provengono dal mondo intero. And it's not a case if this is just the region that is the cull of algebra and mathematics. And it's enormous the debt that we have to do to this region. And so in today's world, where the world is changing and we see lots of people not understanding each other, there is a price you pay if you only look at your own image in the mirror and admire how beautiful your history is and don't even bother to look at anybody else's. E in questo mondo, che è in grande trasformazione, c'è un prezzo da pagare se non si fa altro che guardare se stessi allo specchio e compiacersi di se stessi. For example, this world is one that directly built Italy. Where did Venice trade? Where did Genova get its money from? Where did Pisa trade? The rise of Italy was all to do by these cities connecting in to these silk roads. Venezia, Genova, sono tutte città che sono cresciute e prosperate attraverso il commercio con le vie della seta. Siamo esattamente entro la Genova e la Pisa qui. Diplomatico. So, this world connected, it allowed the rise of Italy through trade. It was through trade with the east that these great Italian cities galvanized and changed Europe. This world also was responsible for how we divided Europe so that the people who wanted to trade with this world, wealthy and rich and so on, We have no commodities in Europe, in the ancient world, in the middle ages, or even today. We have almost no gold in Europe, very little silver, a bit of tin. We don't have much we can sell to other customers, whether they're in the Gulf, whether they're in China. E questa è anche la regione che è responsabile per la divisione dell'Europa, che non possedeva risorse sue come ancora tutt'oggi. In Europa c'è pochissimo oro, non c'è assolutamente l'argento, non c'è lo stagno, non c'è pochissimo stagno, ci sono poche risorse. E oggi è ancora così, ancora oggi non abbiamo risorse, abbiamo servizi finanziari e altri tipi di servizi, ma non abbiamo altri tipi di risorse primarie. Ed era così già allora, tranne una cosa, donne e bambini. Quindi in queste secoli bui, in queste ducati, che non parliamo di parlare, non guardiamo nulla al traffico di un'anni anni fa. E un'anni anni fa, alcune delle grandi città in Europa sono fondate come centri di servizi, come Utrecht, come Dublin, come Mainz in Germania. E una, di nuovo, molto diplomatica, perché sono un lungo, ma non mi sento, ma anche Venezia. C'è appunto tutto il traffico umano e i centri della schiavitù in Europa che sono nati in Europa mille anni fa. La città di Utrecht, di Dublino, Mainz e, per essere ancora una volta diplomatico e non dimenticarmi l'Italia, la città di Venezia. La venetica e altri,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... I Veneti erano estremamente aggressivi nella vendita di donne e bambini come schiavi all'Islam. E a un certo punto si sono però impegnati a non vendere cristiani come schiavi. E questo, per motivi geografici, ha fatto sì che tutta la parte dell'Europa che ancora non era stata, non si era convertita al cristianesimo, poteva essere venduta come schiavi. E quindi gli slavi è la parola da cui deriva la parola schiavo. In Italian, when you say ciao to each other, you're saying schiavo, it's venetian slang for I'm your slave. Quando gli italiani si salutano dicendo ciao, stanno dicendo schiavo, che è il termine dialettale di Venezia per indicare lo schiavo. E noi possiamo usare questa evidenza allonga data. Perché, allonga la russi rivera, in particolare, we find silver coins, allonga la russi rivera, allonga la russi rivera, che suggeriscono che la scala della trade è non in hundreds of thousands of coins, in millions of coins, ma in tensi of millions, of silver pieces, brought back by the vikings, who, the really smart, ambitious ones, didn't head towards Britain. the smart, ambitious ones, eventually built an empire that became Russia. E lungo i corsi dei fiumi in Russia è stato possibile ritrovare delle monete d'argento, e non sto parlando di centinaia, di migliaia o di milioni, ma di decine di milioni di pezzi d'argento che testimoniano di questo commercio. E quindi le vie della seta riguardano naturalmente la seta, le spezie, gli esseri umani, ma tante altre cose anche riguardano le mode, le idee, le convinzioni, e tutte queste connessioni hanno legato questa ragione nel bene e nel male. e, of course, as well as goods and ideas, you find other things that are traded, too, like technology, like flora and fauna, but also disease. So, on my maps here, I have, in the light grey, the Mongol conquests, which built the single biggest land empire in human history. and again, it was tolerant, there were very, there were some dangerous, there were some difficult moments, too, but following exactly the same routes came the Black Death, which killed 30% of the population of Europe and maybe more in China, and the Middle East. E quindi viaggiavano non solo beni e idee, ma anche tecnologia, flora e fauna, e anche le malattie. Qui in questa zona indicata in grigio, sono segnate le conquiste mongole dell'impero mongolo, che era stato un impero estremamente tollerante, e lungo queste stesse vie viaggiava però anche la morte nera, che ha causato il 30% delle morti in Europa e ancora più morti in Cina. So finding these kinds of connections starts to explain our history in a very, very different way by joining together ideas so that when you have the high points of Florence and Venice, understanding how they are connected to other parts of the world. Here in Sarzana, for example, why was it in the 15 and 1600s? Why make sculptures and statues that look like things made in ancient Rome? So if we understand these connections, we have a better way to explain our history. If we understand these things by observing Florence and Venice, we can ask ourselves this question. Why, for example, here in Sarzana, in quel tempo venivano costruite statue che assomigliavano all'arte antica romana. And it's because new worlds need new stories. So here on my travels in the last year, Berlin, Washington, Sydney, Liverpool. These buildings have these places, these regions have zero connection with the Roman Empire. These buildings have these places, these regions have zero connection with the Roman Empire. Because creating a world where you forget about one thousand years or one and a half thousand years of history that doesn't suit you is how you define how your present day you want it to look, rather than reality. Because if you create a world forgetting what your origins are, and what your history was, you are giving form to the present as you would like it. And of course this looks very beautiful to us. Here is a sculpture of Julia Domna in the second century and here Canova. But exactly the same kinds of styles. Here Alessandro il Grande and Napoleone who specifically asked if he could have his design to look exactly like Alexander the Great. Napoleone che chiese di avere la sua statua esattamente sul modello di quella di Alessandro il Grande. So our history is a selective editing of what it is that we want to see rather than what is real. And so for me the empires that are most interesting, that the European Union would learn most from are the ones that are the most stable, where justice is most fair, that are the most long lasting and that are the most tolerant. So our is a sort of selection of history that does not correspond to reality. And also the European Union has also taken inspiration from the history imperies in which justice has been more stable and that has lasted longer. Yes, that slide, that's not them by the way. So those would be, for example, the Byzantine Empire. No one pays any attention to that. Nessuno se ne occupa. The Mongol Empire, nothing at all as we think that it is, where our assumption of ultraviolence, of barbarians rampaging, rather than the world that eventually gives through to Mughal India in places like the Taj Mahal. Nessuno nomina appunto l'impero bizantino o l'impero mongolo che si è esteso fino al Taj Mahal. It ends with something like the Taj Mahal, these buildings all over the central Asia. But we call them Mughal because it suits us to change the name. It's not the same. So everybody loves Mughal architecture, but nobody likes Mongols. And it makes us comfortable to define this part of the story or of the architecture, the architecture mogul, because it makes us comfortable to do this and give this interpretation. So in my book I try to write about history over two thousand years, explaining why these silk roads have always been important. Sometimes different products, sometimes different people, sometimes different ideas. Faith, the spread of Islam, spread of Christianity, trade, the rise of the West, what it was that Columbus, Columbus, by the way, when he sailed across the Atlantic Ocean, wasn't trying to find out if the world was flat or like my son said, was it to see if there was something there? He was trying to find India and China because Spain and Portugal were at the wrong end of Europe. I have written this book to try to explain why the ways of the set are so important. For the exchange of ideas, for the exchange of human beings, the faith, the religious, for the great quantity of commerce and the exchange that there were in all these regions. In other words, when Cristoforo Colombo started to discover the America he did not, as we say, trying to find out if the world was flat or, as I said, my son said, it was only to see if there was something from the other side. But just to try to find new ways for India and China because Spain was the wrong part of Europe, the most distant part. And even the two world wars that we think of as being specifically about Europe, about the trenches and the horror of fighting in the Dolomites in the First World War and then the Nazis and so on in the Second World War. Asia has a fundamental role in both of those two that never gets looked at because it doesn't suit us. And even in the second half of the 20th century this is the case. you cannot understand the second half of the 20th century like for the rest of history without seeing what is happening in Iran. Here in 1979 when Ayatollah Khomeini came back as a more or less direct result of failed Western interventions and attempted interventions in the Middle East. Here Donald Rumsfeld with Saddam Hussein a time when the United States were supporting Iraq in the Iran-Iraq War but also selling weapons to Iran. And then of course after 9-11 the reconfiguration of the world which we live in and the reason why no one can take a bottle of water on an aeroplane because of 9-11 all to do with events people all happening in the center of the world. Brexit and what's going on in Europe is not relevant in the questions about oil about power about energy about influence it's no coincidence that in today's world the same part of the world Syria Iraq ISIS Afghanistan China Russia Saudi Arabia non is not possible to understand the second half of the XX sec however if not if you think at 1979 and the iranian which was a demonstration of the terrorist attempt of intervention in the Occident here in this photograph you can see Ramsfeld with Saddam Hussein in the moment when the US was temporarily associated with war che fornendo armi agli iraniani e poi naturalmente andando avanti nel ventesimo secolo dopo l'undici di settembre e questo evento che ha fatto sì che non è più possibile portare una bottiglietta d'acqua in un aeroplano e cambiando completamente il mondo, ancora una volta torniamo a osservare questa regione, non è il Brexit che è il punto importante o da studiare rispetto al petrolio, al potere, all'energia ma bensì ancora una volta sono la Siria, l'Afghanistan, sono queste le regioni del mondo a cui guardare per avere un'interpretazione degli elementi politici di oggi. La capitale di Kazakhstan più giovane di Google e non sono parti del mondo che saranno importanti domani, sono parti del mondo che sono importanti oggi. Questo è un mondo che è importante per il futuro dei miei e dei nostri figli e sono gli elementi che fanno sì che i nostri figli si potranno vestire, potranno avere accesso all'energia, all'occupazione, ai soldi, ai finanziamenti. Siamo tutti interconnessi in questo mondo e così come lo siamo sempre stati. Ma come se continuate a non ascoltare su Spotify gli artisti cinesi, o se non guardate i film con attori nigeriani o altre produzioni da altre parti del mondo, come potete pensare di capire questo mondo? E voi qui in Italia, peraltro, avete anche fatto l'esperienza dell'ascesa e della caduta, avete già attraversato questo processo. In 2013, President Xi Jinping made an announcement about Chinese rebuilding of the Silk Roads. He said that all of the countries of Asia have had quite a stable relationship with each other, which, broadly speaking, is not incorrect. And since this point, three, four years ago, one trillion dollars has been committed by the Chinese into investment projects in pipelines, in deep water ports, in energy plants, in new roads, in new train lines. Nel 2013, il Presidente cinese Xi Jinping ha annunciato la costruzione di nuove vie della seta. Ha dichiarato che tutti i paesi dell'Asia hanno saputo costruire delle relazioni stabili, cosa che, da un certo punto di vista, è corretto, ed ha quindi fatto questo annuncio di un investimento di un trilione di dollari per costruire, lungo le vie della seta, nuove condutture, nuove strade per l'energia, nuove strade. That change in the world is not going to happen, it's already here. And the scale and the speed of this is almost impossible to describe. 70% of the world's population live in the area called along the Belton Road Initiative. We measure this in billions, not in hundreds of millions. And those are all mouths who will compete with the mouths of our children. They are all energy sources that will compete with ours. And we can work together, but the first point is to be able to understand who these people are, what their histories are, and rather than just wait for them to discover us. Questi sono cambiamenti che non sono cambiamenti che arriveranno, sono cambiamenti che sono già qui e che stanno avvenendo a un ritmo, a una velocità che è praticamente impossibile da descrivere. Il 70% della popolazione mondiale vive lungo queste vie, sto parlando di miliardi di persone. E queste sono le generazioni del futuro, sono le fonti e le risorse del futuro che competeranno con le nostre. E per poter competere in maniera equa è essenziale riuscire a capire le regioni e le popolazioni di questo mondo senza stare ad aspettare che siano loro a venire a scoprire noi. So, we see in the new Silk Roads that there are lots of different kinds of roads. This map is more or less useless because there are so many different routes that you can choose. But there are digital Silk Roads today, there are airline Silk Roads, there are train Silk Roads. Everything is about how these connections can deepen and work together. The world that I work in is seeing this kind of scale of change that is the most dramatic thing that I think you can compare it only with the discovery of the Americas and Vasco da Gama in the 1490s. Now, this won't happen smoothly. In fact, it's very likely that it will happen in some cases very negatively indeed. These are, therefore, the new roads of the Seda that there are so many that it's impossible to describe all of them. There are the roads of ideas, the roads of commerce and they are all extremely interconnected. I'm still talking about a change that is absolutely radical that in history can be perhaps only compared to the discovery of the Americas or the discovery of the new roads from Vasco da Gama. e sto parlando quindi del 1490. E non è detto che questo sarà un cambiamento progressivo, ma anzi potrebbe essere anche drastico e avvenire tutto a un tratto. So, just as one example, Russia currently provides 34% of Europe's energy needs. China's energy needs by 2030 will treble. Treble, three times, 300%. Do solo questo esempio. Oggi la Russia fornisce il 34% dell'energia europea e invece la richiesta di energia da parte della Cina triplicherà nei prossimi 13 anni. So, you'll see on my map these pipelines and train lines are all part of a very, very major strategic plan that China has. And I'm not here to talk about China. My book is not about the future. I'm a historian. I've got no ability to know what happens next. But you cannot understand this world of today without understanding how we got here. and here's my map of the things that keep me awake at night. Quindi, queste condutture, queste linee ferroviarie rappresentano il piano strategico della Cina. Ora, io non voglio... Il libro non parla solamente della Cina così come non è un libro che parla del futuro. Io sono uno storico ed è un libro che parla del passato. Ma è assolutamente necessario conoscere il passato per poter capire il presente. E questa è la cartina che io guardo la notte che mi tiene sveglio a osservarla. So, just to show how fragile our world is, I'll talk you just through some of these highlights. We had a war in Europe 20 years ago. That can happen very easily again with migration, with refugees, with economies in difficulty. Russian intervention in Ukraine. The Russians invaded Georgia in 2008. Turkey here looking in both directions, turning its back now, calling the European Union, Erdogan calling the European Union institutionally anti-Muslim and trying to talk about rebuilding the Ottoman Empire. Should I keep going? You can all follow this bit, right? Yes? Then we have Syria and its civil war. Northern Iraq. Thank God, at least for the time being, Mosul and Raqqa more or less cleared. But where the terrorists and where ISIS splinter to now, who knows? Mosul e Raqqa fortunatamente adesso sono liberate, ma non possiamo sapere dove si sposteranno i terroristi. Oh, go on this side. Yes, because I can't hear you. Oh, okay, yes, yes, yes. Okay, goodbye. Then Iran, which even under President Obama's Secretary of State, there was talk about using nuclear weapons by the United States against Iran to get a deal together. Turkmenistan, Afghanistan, Kyrgyzstan, either have ISIS or Al-Qaeda or both. and in some cases, places like Turkmenistan. Does anybody know the capital city of Turkmenistan? Questi sono tutti i posti che hanno sia l'ISIS che Al-Qaeda in alcuni luoghi entrambi. La domanda è se qualcuno di voi sa quale sia la capitale del Turkmenistan. Hand up, Turkmenistan. Ashgabat. Ashgabat is the strangest and weirdest city in the world, but my favorite fact about Ashgabat, it has the highest concentration of marble used in any city in the world. Alla concentrazione marble, di marmo. Marble, yeah. Molo in Sarzana. Yeah. La più alta concentrazione di marmo di tutto il mondo. Sino più di Sarzana. Turkmenistan, it's a slightly crazy state. It has the fourth largest natural gas reserves in the world. If there's any form of Islamic fundamentalism within Turkmenistan, that presents major problems for the whole of the world. I keep going? Yes. Okay. And then you'll be asking me where's North Korea. Adesso mi chiederete dove si trova la Corea del Nord. My main worry with North Korea is that the profile of what Kim Jong-un has been doing looks to me very similar to what Saddam Hussein was trying to do in the 1980s and early 1990s. Ma il profilo di quello che sta facendo Kim Jong-un secondo mi sembra molto simile a quello che Saddam Hussein stava facendo negli anni 80 e 90. Purtroppo adesso non c'è più molto tempo, quindi dovrete leggere il mio libro per scoprire esattamente di cosa sto parlando. Ma la preoccupazione maggiore per quanto riguarda la Corea del Nord è la proliferazione e la diffusione. La preoccupazione maggiore riguarda cosa succederebbe se la Corea del Nord decidesse di sostenere e armare uno qualsiasi di questi gruppi terroristici che si muovono in questa regione. Ok, so, my book is a history book. I'm a historian, I'm a professor at Oxford University and it gave me such pleasure to write a book that introduced a new world to people. It's been a real shock. I was talking about it at lunch with my lovely publishers, Mondadori, about how extraordinary it is that a book about places in the world that no one's interested in has gone around the world like this one has. And although I spent part of the talk now talking about the present and so on, it's absolutely fundamental to start paying attention to these connections in the past as well. It'll help us understand ourselves better. It'll help us understand other parts of the world as well. And I, as an educator, that's all I can really do. I do try and speak to politicians, to policy makers, to give my idea about what might work and what might not work. But I'm humble and modest enough to know that my job is to present the past as best as I can. And hopefully, apart from saying thank you to all of you for coming, and above all to Sonia for stepping in at halfway to stop. None of you have been shouting at me since Sonia got involved. So probably she should have been here from the beginning, or should have been talking from the beginning. But thank you all for coming. Thank you, Sonia. And please, if you have liked anything I say, or if you disagree with me, that's also fine. But please, have a read of my book so that you have a much better sense of what I'm actually trying to say than I can do in an hour here in Sarzana. But thank you very much for having me. Thank you. Thank you very much for having me. And it's extremely important for me that we have to pay attention to these connections that there are for us to understand our people for us to understand better ourselves and to understand better the other parts of the world. Spesso mi si chiede se posso dare un contributo ai politici per spiegare, dare consigli e idee, ma quello che io ripeto sempre è che il mio lavoro in quanto professore è quello di gettare una luce più attenta sia sul passato per aiutarci a capire meglio il nostro presente. Vi ringrazio tutti di cuore per essere stati qui oggi e per aver ascoltato con pazienza questa conferenza bilingue e se assolutamente se non siete stati d'accordo con qualcuna delle cose che ho detto vi invito a leggere il mio libro per capire meglio anche come vengono affrontati questi argomenti e per magari discuterne insieme in futuro. Grazie. 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 Thank you very much. Thank you.